Non riesce a trattenere le lacrime Francesco Paoletti, invalido civile al 100%, prigioniero di un tugurio, dice. Siamo al numero 62 delle case atere di via Rigopiano a Pescara. Spazi angusti dove è difficile persino muoversi, finestre che non si chiudono anche in inverno. Una stanza da letto che definirla tale può essere imbarazzante visto che il muro è in pratica interessato da muffa e infiltrazioni. Francesco ha problemi di cuore ed altri di salute e a sostenere la sua storia, Domenico Pettinari, consigliere del Movimento 5 Stelle. Qui dentro non può vivere nemmeno un animale e noi ci facciamo vivere i nostri conterranei e concittadini. Io provvederò immediatamente a scrivere Regione, Ater, ma non solo. Chiederò un'ispezione della AS, perché questo poveraccio, signor Francesco che è malato al 100%, non può vivere, deve essere spostato immediatamente in un altro alloggio e questo ci deve pensare il Comune, perché è competenza del Comune. Questo alloggio deve essere ristrutturato, deve essere messo nelle condizioni di poter ospitare degnamente gli umani, perché qui neanche le bestie possono vivere. Mi auguro che si faccia presto, a questo caso lo porteremo anche alla ribalta delle croniche nazionali, che già si sono mostrate interessate, ma io vorrei che chi governa Regione Abruzzo si vergognasse di fronte a queste cose. A me io ho fatto la domanda al Comune, dopo tre mesi mi è andato a questa casa, ma non era così, era bello pitturato, io l'ho accettato, ha detto che c'è la porta nuova, caldare, impianti nuovi, vabbè l'ho accettato, 16 euro pagavo. Vengo qua a fare la nera, cinque anni fa un macello. Ma è vero che le finestre non si chiudono? No, non si chiudono, entra l'aria da qua e c'è là. E questo è il suo letto? Sì. Io mi auguro che dopo che veda questa situazione, la Regione, il Presidente di Regione, perché l'Ater dipende dalla Regione, mettano subito i soldi necessari e ristrutturino questa abitazione. Grazie. Ora voi, che Dio e benedico.